Un'opera davvero molto importante che i cittadini chiedevano da tanto tempo e le amministrazioni passate le avevano sempre promessa ma poi mai realizzata, quindi abbiamo portato a compimento. L'inizio dei lavori è stato ad autunno del 2017, quindi dopo l'estate e adesso sono terminati, quindi ci sarà l'inaugurazione venerdì. I parcheggi saranno 68 posti auto, di cui due per disabili ed è un'opera importante che ha una valenza non solo per la nostra comunità ma per tutta l'intera vallata del Cesano e l'intero territorio provinciale perché sarà importante durante la stagione estiva per i turisti, visto che il parcheggio è molto vicino alla zona mare e è possibile dal parcheggio raggiungere il lungomare con i sottopassi esistenti alla stazione e all'altezza di piazza dell'unificazione e poi anche durante tutto l'arco dell'anno per gli studenti e lavoratori pendolari, visto che la nostra stazione è un nodo di interscambio importante per l'intera provincia. I fondi interamente comunali, l'area è l'area del binario morto lato monte che è stata concessa dalle ferrovie e dall'RFI che ringraziamo per la collaborazione, l'importo è di poco più di 200 mila Euro, quindi un investimento importante, un'altra opera pubblica che portiamo a compimento e che avevamo promesso. Venerdì l'inaugurazione alle ore 18, ci ritroveremo quindi in questo grande parcheggio vicino alla stazione ferroviare, speriamo anche con tanti cittadini vista l'importanza dell'opera.